Benvenuti a tutti sul mio canale. Kenyaman. Beccato in discoteca. Ma i fan. Non sfugge un dettaglio. Kenyaman. È stato sorpreso in un locale romano. Ma i fan hanno notato un dettaglio. Che ha scatenato subito i gossip. Capelli tirati. Camicia. Sigaro. E uno sguardo che fulmina le donne. Kenyaman. Si concede una serata all'insegna del divertimento. E della allegria in un noto locale romano. Kenyaman in discoteca. Ma il suo sguardo è tutt'altro che sereno. Kenyaman. È intento a godersi un po' di riposo. Prima di riprendere i suoi incessanti ritmi lavorativi. Il video della serata. Diventa subito virale. Ne sono spuntati una decina. Ma in uno in particolare. Mostra un Kenyaman serioso. Accerchiato da belle donne. E da buona musica. l'attore turco. Ha uno sguardo particolarmente serio. Come se stesse pensando a qualcosa. Le fan che seguono. Passo dopo passo. Le vicende e i movimenti di Kenyaman. Hanno ipotizzato che lo sguardo assente e pensieroso di Ken. Fosse dovuto all'assenza dei suoi amici italiani. I fedelissimi Macellari e Francio. Sappiamo che i rapporti tra Ken. E Roberto Macellari. Si sono interrotti. Ma non se ne conosce bene la ragione. Macellari. Infatti. Non è stato mai più visto. In compagnia dell'attore. E. Scomparso dal radar dei paparazzi. E dai selfie delle centinaia di fan. Che ogni giorno presidiano l'abitazione di Yamana a Roma. Altre accanitissime followers. Sostengono che Ken abbia quello sguardo ombroso. Perché ha saputo della notizia del matrimonio imminente. Della sua ex partner. Demet Özdemir. Trovi i link in descrizione. E. Fuori discussione. Che la fantasia e l'immaginazione delle fan. Viaggia nella direzione di un sogno. Vedere Ken Yaman. Di nuovo accanto a Demet. L'attore turco. Ha da poco terminato le riprese di Viola come il mare. La serie tv che purtroppo. È stata spostata di nuovo la programmazione. E sembra che andrà in onda. Su canale 5 ad aprile. E che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi. Se vuoi scoprire la trama. Lo trovi qui. Dopo la rottura con Diletta Leotta. Ken Yaman. Non è stato più avvistato con nessuna altra donna. Anche se molti siti che si occupano di gossip. Hanno parlato per mesi. Di un possibile flirt con una certa Maria. Giovane estetista napoletana. Che avrebbe rubato per qualche mese. Il cuore dell'attore di Daydreamer. Ovviamente. Al riguardo. Non c'è traccia di alcuna foto. Ne tantomeno sono arrivate conferme. O smentite da parte del diretto interessato. Dopo la rottura con Diletta Leotta. Ken Yaman. Non è stato più avvistato con nessuna altra donna. Anche se molti siti. Che si occupano di gossip. Hanno parlato per mesi di un possibile flirt. Con una certa Maria. Giovane estetista napoletana. Che avrebbe rubato per qualche mese. Il cuore dell'attore di Daydreamer. Ovviamente. Al riguardo. Non c'è traccia di alcuna foto. Ne tanto meno sono arrivate conferme. O smentite da parte del diretto interessa. Grazie. Per avere guardato il video fino ad ora. A breve nuove news. Se non vuoi perderle. Iscriviti al canale.